Nel launch match della diciottesima giornata di Serie A, la Lazio batte 2-0 il Sassuolo, vince la prima gara del 2023 e torna a conquistare i tre punti dopo tre gare a secco. Al May Bay Stadium Sarri perde dopo soli 15 minuti immobile per un problema muscolare, ma ci pensa Zaccani con un rigore nel recupero del primo tempo, tocco di braccio di Tolian sul colpo di testa di Milinkovic Savic, a sbloccare il match, quarantottesimo. Al novantaquattresimo Felipe Anderson raddoppia, dopo aver driblato anche Pegolo. Emiliani in crisi nera, quarto K.O. di fila e settima partita senza vittorie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.